Ragazzi, cioè Ubaldo Pantani ha fatto due o tre uscite veramente notevoli dalla difesa straordinaria, senza paura proprio. Max ha provato a battere Rove che sta facendo una grande giocata all'altra, ma se ne marchi quattro non devi anche a me 5. No, 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 dai ragazzi, fate invasione di campo, dai, ma è una cosa che non va bene, ma dai, oh. No, 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 un'uscita a vuoto così non doveva farmela, non me la doveva fare. Ma che ha fatto? Come l'ha persa questa palla? Dai!